eravamo in sette nel break quattro donne e tre uomini uno dei quali seduto accanto al vetturino e salivamo al passo dei cavalli la grande collina dove serpeggiava la strada partiti da etretà all'aurora per andare a visitare le rovine di tankarville sonnecchiavamo ancora intorpiditi dall'aria fresca del mattino soprattutto le donne poco avvezze a quelle alzatacce da cacciatore socchiudevano continuamente le palpebre chinavano la testa oppure sbadigliavano insensibili all'emozione dell'alba era autunno sui due lati della strada si estendevano i campi spogli ingialliti dai monconi di stelo dell'avena e dal grano falciati che ricoprivano il suolo come una barba mal rasata la terra brumosa sembrava fumare all'odo le cantavano in volo altri uccelli pigolavano nelle macchie finalmente il sole spuntò davanti a noi tutto rosso sulla linea dell'orizzonte e a mano a mano che saliva di minuto in minuto più chiaro la campagna sembrava svegliarsi sorridere scuotersi e come una fanciulla che esce dal letto togliersi la sua camicia di vapori bianchi il conte de trail seduto a cassetta gridò to una lepre e distese il braccio verso sinistra indicando un campo di trifogli l'animale filava quasi nascosto da quella distesa mostrando solo le sue grandi orecchie poi tagliò per un campo arato si fermò ripartì nella sua folle corsa cambiò direzione si fermò di nuovo inquieto spiando ogni incombente pericolo indeciso sulla strada da prendere quindi si mise a correre con grandi balzi del treno posteriore e sparì in un vasto appezzamento di barbabietole tutti gli uomini si svegliarono per seguire il cammino dell'animale rené amadouard dichiarò non siamo galanti stamattina e guardando la sua vicina la giovane baronessa di seren che lottava contro il sonno le disse a mezza voce pensate a vostro marito baronessa rassicuratevi tornerà soltanto sabato avete ancora quattro giorni lei rispose con un sorriso addormentato come siete stupido poi scuotendosi dal torpore aggiunse su via su via diteci qualcosa per farci ridere voi signor chenal che passate per aver avuto più successi galanti del duca di richelieu raccontateci una storia d'amore che vi è capitata quella che vorrete leon chenal un vecchio pittore che era stato bellissimo fortissimo fierissimo del proprio fisico e amatissimo cominciò ad accarezzarsi la lunga barba bianca e sorrise poi dopo qualche istante di riflessione divenne improvvisamente serio non sarà una cosa allegra signore sto per raccontarvi il più doloroso amore della mia vita auguro ai miei amici di non ispirarne mai di simili avevo allora 25 anni e facevo l'imbrattatele lungo le coste normanne chiamo fare l'imbrattatele quel vagabondaggio dai non spalla di locanda in locanda sotto il pretesto di studi e paesaggi dal vero non conosco nulla di meglio di quella vita errante all'avventura sei libero senza entralci di sorta senza cruci senza preoccupazioni non pensi neppure all'indomani percorri la strada che ti pare piace senza altra guida che la tua fantasia senza altro consigliere che il piacere degli occhi ti fermi perché un ruscello ti ha sedotto perché le patate fritte davanti alla porta di un oste hanno un buon odore talvolta è un profumo di clematide a determinare la tua scelta oppure l'occhiata ingenua di una cameriera di locanda non disprezzate queste rustiche tenerezze anche quelle fanciulle hanno un'anima dei sensi guance sode e labbra fresche e il loro bacio violento e forte e sapido come un frutto selvatico l'amore ha sempre un prezzo da qualunque parte provenga un cuore che batte quando apparite un occhio che piange quando partite sono cose così rare così dolci così preziose che non bisogna mai disprezzarle ho conosciuto gli appuntamenti nei fossi pieni di primule dietro la stalla dove dormono le vacche e sulla paglia dei fienili ancora tiepidi del calore del giorno serbo ricordi di rotti tessuti di tela grigia su carni elastiche e dure e rimpianti di innocenti e franche carezze più delicate nella loro brutalità sincere dei sottili piaceri ottenuti da donne incantevoli e distinte ma ciò che più di tutto si ama di quelle avventurose scorribande è la campagna i boschi le albe i crepuscoli i chiari di luna per i pittori sono come il lune di miele con la terra si è soli vicinissimi a lei in quel lungo e tranquillo appuntamento ti si sdraia in un prato in mezzo alle margherite ai papaveri e ad occhi aperti sotto una pioggia di luce solare si contempla in lontananza il piccolo villaggio con il suo aguzzo campanile che suona il mezzogiorno ci si siede in riva una sorgente che scaturisce ai piedi di una quercia in mezzo a una chioma di erbe fragili alte rilucenti di vita ci si inginocchia ci si china e si beve quell'acqua fredda e trasparente che ti bagna ai baffi e la punta del naso ma si beve con un piacere fisico come se si baciasse la fronte labbra su labbra a volte quando ci si imbatte in una pozza lungo quegli esili corsi d'acqua ci si tuffa tutti nudi e si sente sulla pelle dalla testa ai piedi come una carezza gelida e deliziosa il fremito della corrente viva e leggera se allegri sulla collina malinconici sulla riva degli stagni esaltati quando il sole annega in un oceano di nubi sanguigne e proietta sui fiumi riflessi rossastri e la sera sotto la luna che scorre all'orizzonte pensi a mille strane cose che non ti verrebbero in mente sotto la luce cocente del sole così errando nella stessa contrada in cui ci troviamo quest'anno una sera arrivai al piccolo villaggio di benneuville sulla scogliera tra i porti ed etretà venivo da fechamp seguendo la costa questa costa alta e dritta come una muraglia con le sue sporgenze di roccia gessosa a picco sul mare avevo camminato fin dal primo mattino su quella prateria rasa sottile e soffice come un tappeto che si spinge fin sull'orlo dell'abisso sotto il vento salato del largo e cantando a pieni polmoni marciando ad ampi passi osservando ora la fuga lenta e rotonda di un gabbiano che porta a spasso nell'azzurro del cielo la curva bianca delle sue ali ora sul mare verde la vela scura di una barca da pesca avevo trascorso una giornata felice di spensieratezza e di libertà mi indicarono una piccola fattoria dove davano alloggio agli andanti una sorta di locanda gestita da una contadina in mezzo a un cortile normanno circondato da un doppio filare di faggi sicché lasciai la scogliera raggiunsi quel casolare racchiuso dai suoi alberi d'alto fusto e mi presentai a mamma le cachet era una vecchia campagnola grinzosa severa che sembrava sempre ricevere i forestieri contro voglia con una sorta di diffidenza eravamo a maggio i meli sbocciati ricoprivano la corte di un tetto di fiori profumati seminavano incessantemente una pioggia turbinante di petali rosa che cadevano senza requie sulla gente e sull'erba domandai ebbene signora le cachet non avreste una camera per me sorpresa nel vedere che sapevo il suo nome rispose dipende veramente sarebbe tutto occupato comunque si può sempre vedere in cinque minuti ci mettemmo d'accordo e lasciai il mio zaino sul suolo di terra di una stanza rustica arredata con un letto due sedie un tavolo e un catino la camera dava nella cucina grande affumicata dove i pensionati consumavano i pasti in compagnia della gente della fattoria e della padrona che era vedova mi lavai le mani dopodiché uscii la vecchia stava preparando una fricassé di pollo per cena nel vasto camino dove pendeva nera di fumo la catena del focolare sicché avete degli ospiti in questo momento le dissi lei con la sua aria scontenta rispose è una signora una tempata inglese occupa l'altra camera grazie ad un aumento giornaliero di cinque soldi ottenne il diritto di mangiare da solo in cortile quando c'era bel tempo misero dunque il mio coperto davanti alla porta e io cominciai a dilaneare a morsi le magre membra di una gallina normanna bevendo sidro chiaro e masticando una grossa pagnotta di pan bianco vecchio di quattro giorni ma ottimo un tratto la cancellata di legno che dava sulla strada si aprì e una strana persona si diresse verso la casa era magrissima altissima e talmente costretta in uno scialle scozzese a scacchi rossi che la si sarebbe creduta priva di braccia se non si fosse vista una lunga mano apparire all'altezza delle anche una mano che teneva un parasole bianco da turista il suo volto da mummia incorniciato da spirali di capelli grigi arrotolati che saltellavano ogni passo mi fece pensare non so perché a una ringa affumicata con dei bigodini passò davanti a me rapidamente abbassando gli occhi e si introdusse nella casupola quella singolare apparizione mi mise di buon umore non poteva che essere la mia vicina l'attempata signora inglese di cui aveva parlato la nostra locandiera quel giorno non la rividi l'indomani poiché per dipingere mi ero sistemato in fondo a quell'incantevole vallone che voi già conoscete che scende fino ad etretà alzando improvvisamente gli occhi intravidi qualcosa di singolare dritto sulla cresta del poggio si sarebbe detto l'albero di una nave imbandierato era lei vedendomi si dileguò rincasai a mezzogiorno per pranzare e presiposto alla tavola comune per fare conoscenza con quella vecchia originale ma lei non rispose ai miei convenevoli insensibile perfino alle mie piccole attenzioni le versaie ostinatamente dell'acqua le passai piatti con sollecitudine un lieve moto del capo quasi impercettibile e una parola inglese mormorata così a bassa voce che quasi nulla udì furono i soli ringraziamenti cessai di occuparmi di lei sebbene quella presenza continuasse a inquietare i miei pensieri di lì a tre giorni ne sapevo sul suo conto quanto la stessa signora le cachere si chiamava missariet alla ricerca di un villaggio sperduto per trascorrere l'estate era approdata a benville sei settimane prima e non sembrava affatto intenzionata ad andarsene non parlava mai a tavola mangiava velocemente senza smettere di leggere un libriccino di propaganda protestante ne distribuiva a tutti di quegli opuscoli lo stesso curato ne aveva ricevuti quattro portati da un mocciosetto pagando per giunta due soldi per la commissione talvolta diceva alla nostra ostessa all'improvviso senza che nulla avesse preparato una simile dichiarazione io amare il signore più di tutto io ammirare lui in tutta sua creazione adorare in tutta sua natura portare sempre il mio cuore e consegnava subito alla contadina interdetta uno dei suoi libelli destinati a convertire l'universo nel villaggio non la amavano da quando l'istitutore aveva dichiarato è un'atea una sorta di biasimo pesava su di lei il parloco consultato dalla signora le cachet rispose è un'eretica ma dio non desidera la morte del peccatore e io la reputo una persona di una moralità perfetta queste parole atea eretica di cui si ignorava l'esatto significato seminavano il dubbio nella testa della gente per di più si sosteneva che l'inglese fosse ricca e che avesse passato la vita a viaggiare per tutti i paesi del mondo perché la sua famiglia l'aveva scacciata naturalmente per colpa della sua impietà in verità era una delle creature più imbevute di principi una di quelle puritane ostinate come ne produce tante l'inghilterra una di quelle vecchie brave signorina insopportabili che bazzicano tutte le pensioni d'europa rovinano l'italia avvelenano la svizzera rendono inabitabili le splendide città del mediterraneo portano ovunque le loro manie bizzarre i loro costumi di vestali pietrificate le loro ottolette indescrivibili e un certo odore di caucciù che farebbe pensare che di notte qualcuno le rinfodere in un astuccio quando ne vedevo una in albergo scappavo come gli uccelli che vedono uno spaventapasseri in un campo eppure questa mi sembrava talmente singolare da non dispiacermi affatto la signora le cachet ostile per istinto a tutto ciò che non fosse contadino provava nella sua mente limitata una sorta di odio per i modi estatici dell'attempata signorina aveva trovato un termine per qualificarla un termine sicuramente dispregiativo finito non so come sulle sue labbra riesumato durante chissà quale confuso e misterioso travaglio mentale diceva è un'indemoniata e questa parola appiccicata su quella creatura austera e sentimentale mi appariva irresistibilmente comica io stesso ormai la chiamavo l'indemoniata provando un buffo piacere nel pronunciare ad alta voce quelle sillabe quando la scorgevo chiedeva mamma le cachet ebbene che cosa fa oggi la nostra indemoniata e la contadina rispondeva con aria scandalizzata ci credereste signore ha raccattato un rospo che gli avevano pestato la zampa e se l'è portato in camera l'ha messo nella bacinella e gli ha fatto una fasciatura come a un cristiano se questa non è una profanazione un'altra volta passeggiando ai piedi della scogliera aveva comprato un grosso pesce appena pescato soltanto per rigettarlo in mare il pescatore benché lautamente pagato l'aveva coperta di insulti più esasperato che si gli avesse sottratto del denaro dalla tasca ancora un mese dopo non riusciva a parlarne senza andare su tutte le furie senza imprecare contro di lei oh sì era proprio un'indemoniata miss harriet mamma le cachet aveva avuto un'ispirazione di genio battezzandola così lo stagliere che chiamavano saper perché aveva fatto servizio in africa in gioventù nutriva altre opinioni diceva con aria maliziosa è un'anziana che ha fatto il suo tempo se la povera signorina avesse saputo la piccole buona celeste non la serviva volentieri senza che fosse riuscito a capire il perché forse unicamente perché era straniera di un'altra razza di un'altra lingua di un'altra religione in fin dei conti era un'indemoniata passava il tempo a gironzolare per la campagna cercando e adorando dio nella natura una sera la trovai inginocchiata in un cespuglio avendo distinto qualcosa di rosso attraverso il fogliame scostai i rami e miss harriet si alzò di scatto confusa per essere stata colta in quella posa fissando su di me occhi smarriti come quelli dei barbagianni sorpresi in pieno giorno a volte quando lavoravo tra le rocce nascorgevo tutto a un tratto sul ciglio della scogliera simile al segnale di un semaforo contemplava appassionatamente il vasto mare dorato di luce e il grande cielo imporporato di fuoco talvolta la distinguevo in fondo a un vallone camminare svelta col suo passo elastico da inglese andavo verso di lei attratto da non so che cosa unicamente per vedere il suo volto da visionaria il suo volto magro indicibile di una gioia interiore e profonda spesso la incontravo all'angolo di una fattoria seduta sull'erba sotto l'ombra di un melo con il suo libretto biblico aperto sulle ginocchia e lo sguardo che aleggiava lontano infatti non me ne andavo più ancorato a quel paese calmo da mille legami d'amore per i suoi vasti e dolci paesaggi mi trovavo bene in quella fattoria ignorata lontano da tutto vicino alla terra alla buona sana bella e verde terra che noi stessi ingrasseremo col nostro corpo un giorno e forse devo ammetterlo una minuscola curiosità contribuiva a trattenermi in casa di mamma le cashier avrai voluto conoscere un po di più di quella strana miss harriet e sapere che cosa avviene nelle anime solitarie di queste vecchie inglesi erranti facemmo conoscenza in modo abbastanza singolare avevo appena concluso uno studio che mi sembrava pretenzioso e che in effetti lo era fu venduto per 10.000 franchi 15 anni più tardi del resto era di una semplicità assoluta e completamente al di fuori delle regole accademiche l'intero lato destro della mia tela rappresentava una roccia un enorme scoglio tutto bitorzoluto ricoperto di alghe brune gialle e rosse sulle quali la luce solare colava come olio questa luce senza che si potesse vedere l'astro nascosto dietro di me cadeva sulla pietra e la dorava di fuoco tutto qui un primo piano assordante di luce infuocato superbo a sinistra il mare non il mare azzurro il mare color ardesia ma il mare di giada verdastro lattiginoso e aspro sotto il cielo cupo ero talmente contento del mio lavoro che riportandolo alla locanda mi mise a ballare avrei voluto che fosse visto subito dal mondo intero rammento che lo mostrai a una mucca sul ciglio del sentiero gridandole guarda un po vecchia mia non ne vedrai spesso di simili arrivando davanti alla casa chiamai subito mamma le cachet strillando a sguarciagola olè olè padrone di casa venite un po qua e cercate di capirci qualcosa la contadina arrivò e considerò la mia opera con il suo sguardo stolido che non distingueva niente e non si rendeva neppure conto se la tela rappresentasse un bue o una casa miseriet stava rientrando e passava dietro di me proprio nell'attimo in cui tenendo in alto la tela con le braccia la mostravo alla locandiera l'indemoniata non poté non vederla poiché mi ero premurato di presentare la cosa in modo tale che non potesse sfuggire al suo sguardo si fermò di netto colpita stupefatta era il suo scoglio a quanto pare quello dove si arrampicava per sognare a suo piacimento murmurò un oh britannico così accentuato e così lusinghiero che mi girai verso di lei sorridendo le dissi è il mio ultimo studio signorina lei murmurò entusiasta comica e commovente oh signore voi capite la natura in modo palpitante confesso che arrossì commosso da quel complimento più che se fosse venuto da una regina ero sedotto conquistato vinto l'avrei baciata parola d'onore mi sedetti a tavola accanto a lei come sempre per la prima volta parlò proseguendo l'esposizione del suo pensiero ad alta voce oh io amare tanto la natura le offrì pane acqua vino ora accettava con un piccolo sorriso da mummia quanto a me cominciavo a parlare di paesaggio dopo il pranzo essendoci alzati insieme ci mettemmo a fare due passi nel cortile poi probabilmente attratto dall'incendio formidabile che il tramonto accendeva sul mare aprì la cancellata che affacciava sulla scogliera ed ecco che ce ne andammo fianco a fianco contenti come due persone che si sono comprese e compenetrate era una sera tiepida mite una di quelle sere di benessere in cui la carne e lo spirito sono felici tutto è godimento e tutto è incanto l'aria tiepida odorosa piena di profumi di erbe e di alghe accarezza l'odorato con il suo effluvio selvaggio accarezza il palato con il suo sapore marino accarezza lo spirito con la sua dolcezza penetrante ci dirigevamo sull'orlo dell'abisso sopra il vasto mare che riecheggiava cento metri sotto di noi dei suoi piccoli flutti e bevevamo con la bocca aperta e il petto gonfio quell'alito fresco che aveva superato l'oceano e che ci scivolava sulla pelle lento e salato per il lungo bacio delle onde stretta nel suo scialle a scacchi con l'aria espirata i denti offerti al vento l'inglese guardava l'enorme sole scendere verso il mare davanti a noi laggiù laggiù al limite dello sguardo un tre alberi coperto di vele profilava la sua sagoma sul cielo infuocato e un battello a vapore più vicino passava sprigionando la sua colonna di fumo lasciando dietro sé una nuvola senza fine che attraversava tutto l'orizzonte in globo rosso continuava a scendere lentamente presto toccò l'acqua proprio dietro la nave immobile che apparve come in una cornice di fuoco nel cuore dell'astro sfolgorante affondava poco a poco divorato dall'oceano lo si vedeva immergersi diminuire sparire era finita solo il piccolo bastimento mostrava ancora il suo profilo stagliato sullo sfondo d'oro del cielo lontano miss Harriet contemplava con uno sguardo appassionato la fine fiammeggiante del giorno e doveva avere un desiderio smisurato di stringere il cielo il mare tutto l'orizzonte mormorò io amare io amare io amare vidi una lacrima nei suoi occhi proseguì vorrei essere una piccola uccello per volare nel firmamento e restava in piedi come l'avevo vista spesso come confitta nella scogliera ancor più rossa nel suo scialle di porpora ebbi voglia di farne uno schizzo nel mio album si sarebbe detta la caricatura dell'estasi mi girai da una parte per non ridere poi le parlai di pittura come avrei fatto ad un amico sottolineando i toni i valori i vigori con termini del mestiere lei mi ascoltava attentamente comprendendo cercando di intuire il senso oscuro delle parole di penetrare il mio pensiero di tanto in tanto diceva oh io ho capito io ho capito essere molto palpitante rincasammo il giorno seguente vedendomi venne di corsa a stringermi la mano e fummo subito amici era una creatura coraggiosa che aveva una sorta di anima molle e scattava con balzi di entusiasmo mancava di equilibrio come tutte le donne rimaste zitelle a 50 anni era come candita in un'esistenza inacidita ma aveva serbato in fondo al cuore un che di fanciullesco di ardente amava la natura e gli animali di quell'amore saltato fermentato come una bevanda troppo invecchiata dell'amore sensuale che non aveva potuto dare agli uomini la vista di una cagna che allattava di una giumenta che correva in un prato con il suo puletro tra le zampe di un nido di uccelli pieno di pulcini che pigolavano col becco spalancato la testa enorme il corpo in plume la faceva sempre palpitare di un'emozione esagerata povere creature solitarie erranti ai tristi delle pensioni poveri esseri ridicoli e penosi vi amo tutti da quando conobbi missi sariet mi accorsi presto che aveva qualcosa da dirmi ma non osava e la sua timidezza mi divertiva quando me ne andavo al mattino con la mia scatola dei colori in spalla mi accompagnava fino al confine del villaggio muta visibilmente ansiosa e alla ricerca delle parole giuste per cominciare poi mi lasciava bruscamente e se ne andava veloce col suo passo saltellante un giorno finalmente prese coraggio vorrei vedere come dipingete volete io essere molto curiosa e arrossiva come se avesse pronunciato parole estremamente audaci la condussi in fondo al vallone dove cominciai un grande studio restò in piedi dietro di me seguendo tutti i miei gesti con un'attenzione assoluta poi d'improvviso temendo forse di disturbarmi mi disse grazie e se ne andò ma in breve tempo divenne più familiare e ogni giorno mi accompagnò con evidente piacere portava sotto braccio il suo seggiolino pieghevole non permetteva mai che lo portassi io e si sedeva al mio fianco restava là per ore immobile e muta seguendo con gli occhi il tratto del pennello in tutti i suoi movimenti quando ottenevo con una vasta macchia di colore posata bruscamente con la spatola un effetto giusto inatteso e metteva a suo malgrado un piccolo di stupore di gioia e di ammirazione aveva un sentimento di commosso rispetto per le mie tele di rispetto quasi religioso per quella riproduzione umana di una particella dell'occhio divino i miei studi le apparivano come una specie di quadri di santità a volte mi parlava di dio tentando di convertirmi oh buffa specie di bravo uomo quel suo buon dio una sorta di filosofo di villaggio senza grandi mezzi e senza grandi poteri poiché lei se lo figurava sempre desolato dalle ingiustizie commesse sotto i suoi occhi come se non avesse potuto impedirle del resto era in ottimi rapporti con lui una specie di confidente dei suoi segreti e delle sue contrarietà diceva dio vuole o dio non vuole come un sergente potrebbe annunciare al coscritto che il colonnello ha ordinato deplorava nel profondo del suo cuore la mia ignoranza riguardo alle intenzioni celesti che si sforzava di rivelarmi e ogni giorno trovavo nelle mie tasche nel cappello quando lo lasciavo per terra nella scatola dei colori nelle scarpe lucidate davanti alla porta al mattino quegli opuscoli di pietà che con ogni probabilità riceveva direttamente dal paradiso la trattavo come una vecchia amica con cordiale freschezza ma non tardai ad accorgermi che il suo comportamento era un po mutato in un primo tempo non ci badai troppo quando lavoravo in fondo al vallone o in qualche sentiero infossato la vedevo apparire all'improvviso arrivava con il suo passo rapido e scandito si sedeva bruscamente ansimante come se avesse corso come se fosse agitata da una profonda emozione aveva il volto arrossato di quel rosso inglese che nessun altro popolo possiede poi senza ragione impallidiva diventava di un colore terrio e sembrava sul punto di avere un mancamento tuttavia poco a poco la vedevo riprendere la sua fisionomia normale allora cominciava a parlare poi tutta un tratto lasciava una frase a metà si alzava e scappava così in fretta e inspiegabilmente che mi chiedevo se avessi fatto qualcosa che potesse dispiacerle e offerirla finivo per pensare che quello fosse un comportamento per lei abituale probabilmente modificato in parte mio onore nei primi tempi della nostra conoscenza quando tornava alla fattoria dopo ore di cammino sulla costa battuta dal vento spesso i suoi lunghi capelli attorcigliati in spirali si srotolavano e pendevano come se la loro molla si fosse rotta prima non se ne preoccupava più di tanto e si presentava a cena così spettinata da sua sorella la tramontana ma ora saliva in camera per riaggiustare ciò che chiamavo i suoi vetrini da lampadario e quando le dicevo con una galanteria familiare che la scandalizzava sempre oggi siete bella come un astro miseriet un po di sangue le incorporava subito le guance un sangue di fanciulla un sangue di quindicenne poi tornò selvatica come prima smise di venire a vedermi dipingere pensai è una crisi passerà ma non passava ora quando le rivolgevo la parola mi rispondeva con un'indifferenza affettata oppure con una sorda irritazione aveva modi bruschi impazienti nervosi la vedevo soltanto durante i pasti e non parlavamo quasi più pensai seriamente di averla ortata in qualche modo una sera le chiesi miseriet perché avete cambiato atteggiamento nei miei confronti che cosa ho fatto per dispiacervi tutto questo mi crucia moltissimo lei rispose con un accento di collera davvero buffo io essere con voi come prima questo che dite non vero non vero e corse a chiudersi nella sua camera in certi momenti mi guardava in modo strano da allora mi sono spesso detto che i condannati a morte devono guardare così quando gli annunciano il loro ultimo giorno nel suo sguardo c'era una specie di follia una follia mistica e violenta e anche qualcos'altro una febbre un desiderio esasperato irrequieto e impotente dell'irrealizzato e dell'irrealizzabile mi sembrava che in lei vi fosse ancora dell'altro una sorta di combattimento in cui il suo cuore lottava contro una forza sconosciuta che lei voleva domare e forse chissà qualcos'altro chissà fu davvero una singolare rivelazione da qualche tempo lavoravo ogni mattino fin dalle prime luci dell'alba a un quadro sul seguente soggetto un burrone profondo infossato dominato da due scarpati di rovi e di alberi che si allungava perduto annegato in quel vapore latte o in quell'ovatta che aleggia talvolta nei valloni allo spuntare del giorno e in fondo a quella bruma spessa e trasparente si vedeva incedere o piuttosto si intuiva una coppia umana un ragazzo e una ragazza abbracciati allacciati lei con la testa piegata su di lui lui chino verso di lei bocca a bocca un primo raggio di sole insinuandosi tra i rami attraversava quella nebbia aurorale la illuminava di un riflesso erosio dietro i rustici innamorati faceva passare le loro ombre vaghe in una luce argentata era ben fatto parola mia davvero ben fatto lavoravo nel pendio che porta al vallone dietro età per un caso fortuito quel mattino avevo anche dalla mia quel fluttuante velo di vapore che tanto mi necessitava qualcosa mi si parò davanti come un fantasma era miseriet quando mi vide ebbe l'impulso di fuggire ma io la chiamai gridando venite su via venite signorina ho un piccolo quadro per voi si avvicinò quasi a malincuore le tesi il mio schizzo non disse nulla ma restò a lungo immobile a guardare poi bruscamente si mise a piangere piangeva in preda a spasmi nervosi come chi abbia lottato a lungo contro le lacrime e non potendone più vi si abbandona pur continuando a resistere mi alzai di scatto commosso io stesso da un dolore di cui non comprendevo la causa e le presi le mani con un moto d'affetto brusco un impulso davvero francese che agisce più rapidamente di quanto non pensi lei lasciò per qualche secondo le sue mani nelle mie e le sentì fremere come se tutti i suoi nervi si fossero contorti ma poi le ritrasse bruscamente o meglio le strappò l'avevo riconosciuto quel brivido poiché lo avevo già avvertito no non potevo ingannarmi il brivido d'amore di una donna che abbia 15 o 50 anni appartenga al popolino all'alta società va così dritto al mio cuore che non esito a comprenderlo tutto il suo povero essere aveva tremato vibrato rischiato di venir meno lo sapevo se ne andò senza che avessi potuto dire una parola lasciandomi sorpreso come dinanzi a un miracolo e desolato come se avessi commesso un delitto non rientrai per il pranzo andai a fare un giro lungo la scogliera con una voglia di piangere e di ridere al tempo stesso trovando la vicenda comica e deplorevole sentendomi ridicolo e giudicando la sventurata in quella sua follia mi chiedevo che cosa fare ritenni che non mi restasse altra scelta se non quella di partire e misi subito in atto la mia decisione dopo aver vagabondato fino a sera un po triste un po pensieroso rientrai per la cena ci mettemmo a tavola come al solito miss Harriet era presente mangiava con aria seria senza parlare a nessuno e senza alzare gli occhi quanto al resto avevo un aspetto e comportamento abituali attesi la fine del pasto poi rivolgendomi alla padrona e bene signora le cachet tra non molto vi lascerò la brava donna sorpresa e dispiaciuta esclamò con la sua voce strascicata che dite mai caro signore ci lascerete davvero c'ero così bene abituata a voi guardavo di traverso miss Harriet il suo volto non aveva fatto una piega ma celeste la piccola domestica aveva alzato gli occhi verso di me era una ragazzona di 18 anni rubizza fresca forte come un cavallo e così rara pulita di tanto in tanto le davo un bacio furtivo in un cantuccio per abitudine di frequentatore di locande niente di più la cena ebbe termine andai a fumare la mia pipa sotto i meli camminando in lungo in largo da una parte all'altra del cortile tutte le riflessioni fatte durante il giorno la strana scoperta del mattino quell'amore grottesco e appassionato che mi vedeva coinvolto i ricordi emersi a seguito di quella rivelazione ricordi incantevoli e conturbanti forse anche quello sguardo di serva diretto su di me all'annuncio della mia partenza tutto questo mescolato combinato ora mi infondeva un vigoroso umore in corpo un pizzicore di baci sulle labbra e nelle vene quel non so che che può indurre a commettere qualche sciocchezza mentre la notte calava insinuando a mano a mano la sua ombra sotto gli alberi intravi di celeste che andava a chiudere il pollaio dall'altra parte del recinto mi lanciai ricorrendo con un passo così leggero che lei non sentì nulla e mentre si risollevava dopo aver abbassato la piccola botola da cui entrano ed escono le galline la afferrai a piene braccia tempestando il suo volto ampio e grasso con una grandine di carezze lei si dibatteva pur ridendo perché c'era abituata perché la lasciai bruscamente perché mi voltai di scatto come riuscì a sentire qualcuno dietro di me era miseriet che rincasava ci aveva visti e restava immobile come dinanzi a uno spettro poi scomparve nel buio tornai a casa in preda alla vergogna disperato di essere stato colto da lei in quel modo più che se mi avesse sorpreso nel commettere un'azione criminale dormi male sovraeccitato assillato da pensieri tristi mi sembrò di udire un pianto parecchie volte mi parve di sentire qualcuno camminare per la casa e aprire la porta di fuori verso il mattino oppresso com'ero dalla fatica il sonno finalmente mi vinse mi svegliai tardi e mi feci vedere solo a ora di pranzo ancora confuso non sapendo che contegno tenere nessuno aveva visto miseriet l'aspettammo ma non si fece viva mamma le cachet entrò nella sua camera ma l'inglese se n'era andata doveva essere uscita all'aurora come spesso faceva per vedere sorgere il sole non ce ne stupimmo e ci mettemmo a mangiare in silenzio faceva caldo molto caldo era uno di quei giorni torridi e afosi in cui non si muove una foglia avevamo portato la tavola fuori sotto un melo e di tanto in tanto sapeur andava a riempire in cantina la borrazza di sidro tanto si beveva celeste portava le pietanze dalla cucina uno spezzatino di montone con patate un coniglio saltato e un'insalata quindi posò davanti a noi un piatto di ciliese le prime della stagione poiché volevo lavarle rinfrescarle pregai la piccina di andare ad attingere nel pozzo un secchio d'acqua molto fredda tornò dopo cinque minuti dicendo che il pozzo era asciutto aveva lasciato cadere tutta la corda il secchio aveva toccato il fondo ma poi era tornato su vuoto mamma le case volle rendersi conto di persona e andò a guardare nel pozzo tornò dicendo che nel pozzo c'era qualcosa qualcosa di strano magari un vicino per ripicca ci aveva gettato dentro delle balle di paglia decisi di guardare anch'io sperando di poter distinguere meglio e mi chinai sull'orlo intravidi vagamente un oggetto bianco che cosa era mi venne allora in mente di calare una lanterna all'estremità di una corda la luce gialla danzava sulle pareti di corda scendendo a poco a poco eravamo tutti e quattro occhini sulla vera del pozzo poiché il sapere celeste nel frattempo ci avevano raggiunti la lanterna si fermò sopra una massa indistinta bianca e nera strana incomprensibile sapere esclamò è un cavallo vedo uno zoccolo ci sarà cascato stanotte dopo aver dirazzato dal prato ma subito dopo un brivido tremendo mi attraversò la schiena avevo riconosciuto un piede poi una gamba tesa il corpo intero e l'altra gamba erano sommersi nell'acqua balbettai sottovoce tremando così forte che la lanterna ballonzolava disordinatamente sopra la scarpa da dentro c'è una donna emiseriette soltanto saper non fece una piega in volto aveva visto ben altro in africa mamma le casce e celeste cominciarono a lanciare grida strazianti e fuggirono di corsa si rese necessario il recupero della morta imbracai solidamente il domestico e lo calai con l'aiuto della carrucola lentissimamente vedendolo sprofondare a mano a mano nell'oscurità teneva in mano la lanterna e un'altra corda presto la sua voce che sembrava provenire dal centro della terra gridò alt e vidi che ripescava qualcosa nell'acqua l'altra gamba poi legò i due piedi insieme e gridò di nuovo issa lo feci risalire ma mi sentivo le braccia rotte i muscoli deboli avevo paura di mollare la presa e di lasciar ricadere l'uomo quando la testa apparve sulla vera chiesi ebbene come se mi fosse atteso qualche novità su colei che si trovava laggiù in fondo salimmo tutti e due sulla pietra dell'orlo e faccia faccia piegate sul foro cominciammo a essare il corpo mamma le casce e celeste si spiavano da lontano nascoste dietro il muro della casa quando videro uscire dal buco le scarpe nere e le calze bianche dell'annegata sparirono saper afferrò le caviglie e la tirammo così povera e casta ragazza nella postura più immodesta la testa era orribile nera e straziata i lunghi capelli grigi tutti sciolti srotolati per sempre pendevano gocciolanti e fangosi saper disse con un tono di disprezzo per dio come magra la portammo nella sua camera e dal momento che le due donne non si facevano vedere insieme allo stalliere dovemmo occuparci della sua toletta mortuaria lavai il suo volto triste e decomposto sotto le mie dita un occhio si aprì un poco e mi guardò con quello sguardo pallido con quello sguardo freddo con quello sguardo terribile dei cadaveri che sembra provenire da dietro la vita ravviai come potei i suoi capelli sparsi e con le mie mani inesperte aggiustai sulla sua fronte un'acconciatura nuova e singolare poi le tolsi i vestiti fradici d'acqua scoprendo un po pudicamente come se stessi commettendo una profanazione le spalle e il petto e le lunghe braccia sottili come rami quindi andai a cercare dei fiori papavele fiordalisi margherite e un po d'erba fresca e profumata e ne ricoprì il suo letto funebre infine mi toccò adempiere alle solite formalità essendo l'unico in quel momento al suo fianco una lettera ritrovata nella sua tasca scritta all'ultimo momento chiedeva sepoltura proprio in quel villaggio dove aveva trascorso i suoi ultimi giorni un pensiero orribile mi strinse il cuore era forse a causa mia che voleva restare in quel luogo verso sera le comari del paese vennero per contemplare la defunta ma io impedì a chiunque di entrare volevo restare solo accanto a lei e la vigliai per tutta la notte la guardavo al chiarore delle candele quella povera donna sconosciuta per tutti morta così lontano da casa e così tristemente lasciava da qualche parte degli amici dai parenti che cosa erano state la sua infanzia la sua vita da dove veniva mai così tutta sola errante sperduta come un cane cacciato di casa quale segreto di sofferenza e di disperazione era racchiuso in quel corpo sgraziato in quel corpo portato come una tara ignominiosa per tutta un'esistenza ridicolo involucro che aveva tenuto lontano da lei ogni affetto e ogni amore quante creature infelici ci sono a questo mondo sentivo gravare su quell'essere umano l'eterna ingiustizia dell'implacabile natura per lei era finita senza che forse avesse mai avuto ciò che sostiene anche i più diseredati la speranza di essere amati almeno una volta perché infatti si nascondeva così perché rifugiva gli altri perché amava con una tenerezza così appassionata tutte le cose e tutti gli esseri viventi che non fossero gli uomini capivo perché credesse in dio perché sperasse di ottenere altrove il compenso della sua miseria ora anche lei si sarebbe decomposta e sarebbe divenuta pianta a sua volta sarebbe fiorita al sole sarebbe stata brucata dalle mucche prelevata come seme dagli uccelli e carne di animali sarebbe tornata carne umana ma ciò che si chiama anima si era estinto in fondo al pozzo buio lei non soffriva più aveva scambiato la sua vita con altre vite che avrebbe fatto sbocciare le ore passavano in quell'intimità sinistra e silenziosa un pallido chiarore annunciò l'aurora poi un raggio rosso si insinuò fino al letto stese una barra di fuoco sulle lenzuola e sulle mani era l'ora che lei amava tanto gli uccelli ridestati cantavano negli alberi spalancai la finestra scostai le tende perché il cielo intero ci vedesse e chinandomi sul cadavere gelido presi tra le mani il capo sfigurato quindi lentamente senza terrore senza ribrezzo depoge un bacio un lungo bacio su quelle labbra che non ne avevano mai ricevuti le oncenal tacque le donne piangevano a cassetta si sentiva il conte de trail soffiarsi continuamente il naso solo i cocchiere sonnecchiava e i cavalli che non sentivano più la frusta avevano rallentato la marcia e tiravano mollemente il break avanzava a malapena diventato improvvisamente pesante come se fosse stato carico di tristezza grazie grazie